La Commissione Bilancio, in una fase di pieno dissesto del municipio, ha un ruolo istituzionale e politico sicuramente non secondario dal momento dell'insediamento. I consiglieri hanno iniziato una fitta attività di verifica e approfondimento proprio intorno al tema finanziario. È stata la volta ieri del Collegio dei Revisori dei Conti. Tre professionisti, già durante l'amministrazione greco, si sono posti come punto di volta del processo di controllo, aprendo di fatto il lungo periodo culminato con la dichiarazione di dissesto. In municipio i revisori sono stati sentiti in audizione su convocazione del Presidente della Commissione, Vincenzo Tomasi. Hanno sottolineato come si è in corso il lavoro di analisi sull'annualità 2021, poi destinato ad essere trasmesso alla Commissione straordinaria di liquidazione insediata negli scorsi mesi. Sono tutti passaggi propedeutici, così hanno riferito i professionisti. Arrivare al traguardo e il bilancio stabilmente riequilibrato in questa prospettiva non sarà una volata netta. Potrebbero volerci tempi più lunghi rispetto a quelli più volte indicati dal sindaco Di Stefano. Il capo dell'amministrazione vorrebbe chiudere il cerchio entro ottobre. Ha incontrato parecchie volte la burocrazia in riferimenti al settore finanziario. Spinge per una maggiore celerità richiamando le indicazioni fornitegli nel corso di recenti incontri ministeriali. Sulla tempistica per il bilancio stabilmente riequilibrato, come spiega il Presidente della Commissione Tomasi, è emerso comunque uno scenario diverso da quello che i consiglieri speravano. Potrebbe quindi volerci più tempo rispetto a fine ottobre. Gli accertamenti che stanno conducendo i revisori, così spiega Tomasi, sono considerati imprescindibili anche nel rapporto con la Commissione straordinaria liquidazione. Come Commissione comunque ci sarà un monitoraggio complessivo su ogni dettaglio che riguarda il percorso verso il bilancio stabilmente riequilibrato. La linea dei consiglieri è un'Italia senza differenze di schieramento. Tomasi, la vicepresidente di Benedetto, i componenti Sincero, Biundo e Alabiso stanno dando priorità al capitolo bilancio, a quello degli strumenti propedeutici in un contesto comunque molto complesso.